Un pialletto a mano antico, io devo parlare con te o con loro? Con tutti, anche con lui. Sì, è un pialletto a mano, vedi, c'era il controferro regolabile che una volta funzionava, adesso non funzionava più perché è in condizioni piuttose, però serviva per piallare a mano questo. Antico che vuol di Vittorio? È antico quando dici antico che si invidia. Ma questo non so se potrà essere anche dell'Ottocento. Ah, quindi potrebbe essere. Questo serviva per fare le cornici, allora, questo per fare i canali per vetro per esempio, sulla finestra, il verbolo della finestra, prima di montarla bisogna fare il canale per vetro. E questo è il canale, con queste qui si spostava, si regolava per qualcun l'altro. E questa era per mancini, vedi. Perché stiamo andando per la cosa invece che io so a destra, la dopro. Facciamo gli attrezzati, perché in destra non ha una parte, i mancini non ha l'altra? Qual è il motivo? Se io so a destra, lavoro così, no? Quello che è mancino, lavora così, no? Perché la mano che spinge di più è quella che sta dietro? Certo. Va bene, dunque, questo serviva per fare l'incastro attorno alla finestra, quello che va dentro il telaio. Oh, che battuto! Sì, no, no, l'incastro proprio. Ah, l'incastro proprio! Quando entra, va l'incastro dentro e non passa l'aria, mica. Questa è la sponda rala. Questa, se facessi facendo i battenti, la finestra ha visto, c'è il battente del centro. Con questa, forse, la struscia così, ci veniva un battente, si doveva tenere a misura più bene, insomma, con i diti. Questa era una cornice da fare sempre anche sulla finestra, quella lì, per esempio, dentro della finestra la cornice si faceva con questa. Qui c'era da un modo e di qua c'era da un'altro, vedi? Queste... Ah, ce n'ho due, infatti, è vero. C'ho fatto cosa. E questo è il pialletto che fa il lavoro di questa, comunque questo è vero. Grazie. Grazie.